arrivano i campioni che dicono ah non hai le palle di farlo no l'ho sempre fatto 500 euro jammo di tasca sua ecco come si buttano i soldi vado da già marco lo insulto il cagrone rete il cagrone rete non gli scrivo ovviamente il più la zano react la zano react ma guardate manco a dire che gli ha dato il sabbo il resabba a uno che conosco no quel c***o si è messo su fifa venti da fifa venti si è messo a reactare alla streaming per vedere se mollavo i soldi guarda come è andato a vedere subito sto canotto ma c'ha ragione zi ma 500 euro io ma quando gli sborso ma fatta una fan culo faccio a mare nel mondo del gaming io non so com'è possibile che io e zano conoscendoci come persone abbiamo in un certo senso voluto fare una sorta di provino a chakra per entrare si nel gruppo tipo nel gruppo di amici rega perché a noi non ce ne fregava cioè voglio dire noi siamo stati persone sempre che non ce ne fregava un cazzo voglio dire i clan e tutto noi non troviamo nei clan perché era divertente non sappiamo perché a chakra gli avemmo dovuto fare il provino su mv3 mv3 nei 3 v3 mi fanno boom arriva un messaggio su skype fa o chakra grande ho visto che sei entrato negli sb ma viene a farti una partitina con me toni su mv3 facciamo un 3 v3 al tempo zano era toni e se siamo andati a fare 3 v3 su mv2 mv3 itato alla prima botta sì che culo io che non ittavo mai ma quanto so stempiato tanti ah ragazzi perché poi non lo sapete ti l'hai detto no ah 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 ragazzi sono tre giorni ogni volta che lo dice ridi ma perché cazzo ridi ma non è una cosa bella ma non è che rido perché ti accadono cose brutte raga ieri a cena me lo dice l'ho detto ieri a cena raga si sono messi tutti a rio alla rideva il master a bel massimo veluzione ho fatto un controllo dal medico perché si possono anche fare i controlli dei capelli il medico non so come si chiama quello da cui mi sono andato a far controlla i capelli senza non so se c'è un nome non so e mi ha detto che divento pelato entro tre anni ma potevi dico più tato ma fatto tu entro tre anni non c'è più capito mi ha fatto con queste ci devo campare o 30 euro fra c'era c'era una zanzara mi stava dando il titanico voi direte lo fai posta non sbaglia sempre l'ultima no addirittura è riuscita a sbagliare già una delle prime dai sacro si fa portland e di drake sei veramente un bot e few moments later a fare io meglio con queste mani ma con quelle è facile perché lì c'è la voce L'unica amico mio Questo è un bacio di me Ehi, ehi, no No, raga, però non perdetelo lì, mi prego Sempre a dire, sempre a dire Arzi gogolata, no Vabbè, raga, no, raga, non perdete No, raga, non perdetela lì, mi prego No, raga, ho premuto, ho premuto cross all'altra faccia Sono tre contro tre sul lancio del portiere, raga Oddio, la vio io No, Zan, no, Zan Ragazzi, non vedo niente Fa troppo ridere, Zan, mi porta, raga Ragazzi, non vedo niente Ragazzi, le uscite le hanno barrizzate Ragazzi, non si può più uscire, raga Ragazzi, non si può più uscire dalla porta E sono più alto di tutti Tira Che merda Beh, ci sta, però Sai che i papaveri sono alti, alti, alti Mi sniffo la c***a Vai, dammela Mi ha ucciso, oh, frate, c'era con me Il minutaggio, il minutaggio giusto Ma devi passarla Ho passato Oh, io non l'hai passato, hai fatto otto c***o di skill Non senti, che c***o ci fa questo qui Ma, che non ve sto a capì Goal Ma Questo manco un corkinex, davvero, eh Questo so io, Irl Ha tirato, ha tirato Eh, vedi pure lui Dai, devo andare a fare sta rollo, mica Madonna, però, ho tipo delle fitte adesso Ma che è successo? Mi tiro un pugno sullo sto Vai, lacrosso, lacrosso, lacrosso Dall'altra parte, dall'altra parte, gamba Vabbè, la gabbo Va bene, va bene, gamba Dormite c***o di smoke Ma che cosa è successo? Madonna, faccio nel tanto gioco Ma è tutto calcolato Un attaccante da lì No, la criccetta, già La pio è mia No, non è Letale Andre, Andre Vero, bello Per scrippare Era tutto un'orattica Corri, bambino, corri C***o in Cina No, il tiro Bellissima C***o in Cina Trastami, questo si chiama Trastami Che rapace Se lo porta a casa il pallone E si tappa le orecchie Alle critiche Ma chi c***o ti ha criticato? Pubblico Fischi per a C71 Grazie a Zab, bello A C71 È sempre lì Teo, non è Roba, bello È il pazzesco Ma un c***o È il pazzesco S'hanno messi Che sembra che stanno a sgozzare il ragazzino Basta Ma l'ho detto Dei consigliere Ma sbocca Se respira Ma questo è pazzo È il Jamie Tice Dei rispondo ancora Che voi C'è ancora un po' Dei veleno per voi Tirati i grattacieli Come la Bad Boy Pluma, Cameli Calo col Match Point Per te È una tortura Puoi portare Chi ti pare tanto Non dura Dentro Bianchi Fuori i comodini E fuori Come in Honduras Siamo avanti Ah, raga Oggi Sul treno Il fazione sta scicca La sigaretta in bocca Il fazione sta uscendo Con la sigaretta in bocca C'è sta signora Che lo guarda E gli fa No Il treno non si fuma Io mi giro Ti faccio Ma dai Il fazione Se ce la pensassi Ma dai E no Ti vedevo che stavi Per accendere Per accendere La sigaretta Allora dopo Per tutta Tipo mezz'ora dopo Io sono andato in giro Arrivavo esatto Io sono andato in giro Per il vagone Con la mano così E dentro al treno Mentre stavo Quella E stavo così Stavo senza niente Stavo aspettando Che la signora mi dicesse Non si fuma in treno Mi sono fatta trollare Io ho più chiudessi Era l'unica cosa L'unica cosa L'unica È stato Anzi è stata Orchid Con la chiave inglese Nello studio È la risposta esatta Vazzone Bravo Vazzone È il vincidore Della prima partita Grazie Borsa Grazie Ciao a tutti Leo facciamo i cerchi Va bene Che pelli Bravo Celina Bravo Bravo Amore No Infatti è diventata vecchia La torta Ma C'è pure il muro Che è successo Ma Invecchiata La torta Durissima In c***o Alla murta Da mano Aspetta Invecchiata La torta Magà La torta La torta Contenuto Sono il fantasma Del contenuto Di me la godo Il contenuto Di me la godo Bisognava farlo C***o E che c***o No 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 Ma no 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 Eh vabbè gol Voglia Ma com'è che ti sei scansato Ma perché Perché sei in possesso Di pallaticcio Arbitro 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 Che cosa è successo Ma che gioco è Ma che cos'è But you must Keep going Stick it out